A Kiev Alba di bombardamenti ed esplosioni colpita una zona residenziale della capitale ucraina, un palazzo di dieci piani è andato in fiamme, almeno due le vittime, morti anche nei bombardamenti russi a Rubesna e nella regione del Lugansk, distrutti un collegio per non vedenti, un ospedale cittadino, tre scuole e altre strutture militari. Nel ventesimo giorno di guerra i rappresentanti di Russia e Ucraina ancora in videoconferenza per cercare un accordo che metta fine alla guerra. Non sarà facile, ammette il leader ucraino Zelensky, che chiede l'immediato cessa del fuoco e il ritiro delle truppe russe.